Paris Hilton tra videogames e trasparenze, il look è davvera Dark Lady Paris Hilton ama condividere con i propri follower ogni momento delle sue giornate, sia che si tratti di lavoro, sia che si tratti di svago Una cosa è certa, non smette mai di stupire il pubblico, sfoggiando outfit sensuali e a volte decisamente stravaganti Ciò che non manca mai nei suoi post è la giusta dose di brillantini, che la star ama inserire praticamente ovunque, abiti, gioielli, occhiali, cover del telefono e persino nella sua linea di profumi Questa volta però Hilton ha stupito il pubblico per un'altra ragione, poche ore fa ha condiviso una foto che la ritrae tra dei videogames, mentre indossava abiti decisamente trasparenti Un look davvera Dark Lady, ma sempre molto sensuale con una parte di sé non molto visibile a causa del pizzo nella parte superiore che mostrava gran parte delle forme del suo corpo A New York, una sexy Dark Lady. Si trovava a Manhattan, presso un ristorante di una grande catena americana che propone una formula di fast food e videogames Così la ricca ereditiere si è fatta scattare una foto mentre era nella sala giochi e sorrideva divertita, mostrando un outfit davvero particolare Paris Hilton non ha limiti e ama stupire ogni giorno il proprio pubblico, sfoggiando abiti davvero fuori dagli schemi. Sensuale, ironica e divertente, la star sa come divertirsi e come far divertire i propri fan Questa volta, oltre ai videogames e alla nota catena di fast food americana, Paris ha deciso di unire anche un look davvera Dark Lady, ma decisamente sexy Così nella foto si può ammirare il suo abito nero che arriva appena sopra le ginocchia, arricchito da un pizzo semi trasparente nella parte superiore, che lascia intravedere gran parte del seno I capelli sono sciolti e biondissimi, come sempre, mentre le scarpe sono in tinta con il vestito, decisamente eleganti Il pubblico sembra aver apprezzato lo scatto pubblicato dalla Star, il quale ha raccolto più di 25.000 like e oltre 200 commenti di apprezzamento per la sua bellezza Gli outfit stravaganti di Paris Hilton Paris Hilton ama mettersi in mostra indossando outfit fuori dagli schemi. La foto di poche ore fa che la ritrae tra videogames e trasparenze non è l'unica, il suo profilo Instagram è caratterizzato dagli abiti stravaganti della star Tra questi sicuramente c'è lo scatto che ha raggiunto più di 100.000 like che la ritrae con un bikini di brillantini e una pelliccia rosa. Anche la foto in cui si mostra seminuda, mentre si copre solo con un cagnolino bianco sembra essere stata gradita dal pubblico con quasi 900 commenti Alcuni dei suoi look più stravaganti sono stati sfoggiati al Burning Man Festival che ogni anno richiama migliaia di visitatori e personaggi dello spettacolo per celebrare l'arte in tutte le sue forme nel deserto del Nevada In tale occasione, Hilton si è vestita da guerriera intergalattica e in seguito ha indossato anche una lunga gonna floreale e un top entrambi semitrasparenti, con un copricapezzoli nero, non è di certo passata inosservata . .